Stiamo andando avanti da mesi di rinvio in rinvio. Stanno rinviando le decisioni sull'Ilva, sull'acciaio, sul futuro di Taranto, di Genova, di Novi Ligure e dell'industria italiana. Stanno rinviando le decisioni su autostrade e chi si muove nel fine settimana o durante la settimana per lavoro, testimoni, al di là di Salvini, che caos c'è in Liguria, in Sicilia, nel Lazio, nelle Marche, in Veneto, perché tutti gli investimenti sono bloccati, perché PD e 5 Stelle stanno litigando sul rinnovo o meno della concessione ad autostrade. Ma lei la rinnoverebbe questa concessione, o no? Lei è stato nel governo, conosce bene la questione. Se non ci sono gli estremi legali per revocarla, la devi prorogare, perché altrimenti ci sono le autostrade di mezza Italia, ferme, con lavori in corso e gallerie chiuse, le par normali. E mi dicono, decideranno a settembre, ma gli italiani a luglio e agosto cosa fanno? Peraltro c'è l'inaugurazione del nuovo ponte sul Bolcevera, lì bisogna fare il collaudo, ci deve essere una società affidataria. Cioè, modello Genova, mille operai hanno ricostruito il ponte, il ponte è pronto, rischia di essere pronto, ma senza le macchine, perché appunto se il governo non decide cosa fare sulle autostrade, il ponte è chiuso. Cioè, in un anno penso che PD e 5 Stelle abbiano dimostrato di essere sostanzialmente litigiosi su tutto. Noi ponemmo fine al governo con 5 Stelle perché alla fine era un litigio costante. Però scusi, mi fate vedere le immagini del papete, le famose immagini del papete che lei ben ricorda, perché lei in quell'agosto fece cadere il governo di Carlo Verde. Se il governo è fermo, per serietà uno va a casa. Ecco, queste sono le immagini, i selfie, lei con generosità sempre si sottopone a molti selfie. Quello che le voglio chiedere, ma ha mai avuto un ripensamento rispetto a quella decisione? No, no perché... Anche voi litigavate continuamente. Perché il governo è caduto? Perché era tutto...